Perchè se hai girato non mi vedo andate a casa a seghe, andate con lo sport ma come l'avete ritorno? va, proprio il piede che sta su qua si, è arrivato lui si con gli pochi piedi ora ci passiamo, guarda! bravo vaca ma che quando veniamo tutto a domeni qua se ho, ma ora che qualcuno vele zumodio del creme non è che manco ma quando veniamo tutti a domenica? Grazie a tutti.